La priorità del mio dolore, io ho messo da parte il mio dolore, io ho soffocato il mio dolore, perché la priorità era dare giustizia a Michele. Che dovete raccontare cose che non stanno vincendo in terra? Adesso mettevi scusso, ehi. Voro felice di aver sposato questa donna. La priorità reactiva ante il fallecimento, ante la desaparizione. Perché sono che tu senti un colpego, lei? Per alcune persone la ricerca del colpevole diventa una ragione di vita. Che motivo aveva male di scegliarsi? Era affrontata e la realtà ha... La terza autopsia lo dice chiaramente che si tratta di...